Grazie a tutti Ci vediamo appena arriva ragazzi Infatti gli facciamo dei versi inventati da noi perché non so che verso fare Quindi ragazzi sta arrivando e è tipo 5 metri da noi Ok vai Cugà Cugà Tutto ok? Cugà Hai fatto bagno? Hai fatto bagno? Sì Com'è l'acqua? Cugà Un po' fredda Un po' fredda Davvero sì Ecco c'è quello del cocco Sta arrivando un altro Vucumpra E' in arrivo però non si vede Insomma è in quella zona ritico A 20 metri ragazzi Non posso vedere? Non si vede di capa di viabbo che ragazzi Si sta avvicinando quindi Quella di colloquio Chi sei? Il percorso Tu e Ragazzi c'è un Vucumpra in arrivo laggiù Sta contrattando con una donna Quindi ragazzi probabilmente arriverà tra poco E sì insomma è qua Quindi ragazzi ci vediamo tra più o meno 5 secondi Ti faccio Ok Noi? La mia sorella è stata Dove comprare Sei pronta stella? Non è proprio il nostro cane È il cane di un nostro amico E comunque E là giù ci sono dove comprare Che aspetto che arrivano E poi Prendola mentre la prendo L'importante è Adesso non è riprendere stella Ma riprendere Vucumpra Che stanno arrivando Ciao Ragazzi non so se si è visto ma Il compresso è usato da mia sorella Non è che non è che si vede tutto sto bene Però Ne sta arrivando un altro Comprime arrivo E' il nostro canzionale E' il nostro canzionale Per ora sta andando tutto come prevedevo ragazzi Ragazzi ora però saluto no buona se ok Sì al prossimo VQP che sta arrivando Dall'altra parte Sì da laggiù ma non si vede bene Posso zoomare e non si vede Comunque non posso pregare i minuti Sì da laggiù ma non si vede bene Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti